pubblicheremo content quindi rimanete iscritti cioè se non siete iscritti iscrivete i like fate il cazzo quantomeno voi che vi siete iscritti rimanete iscritti rimanete iscritti non lo scritto non me ne frega un cazzo di te non me ne frega nulla invece gli iscritti rimanete iscritti però però a merda che se sta becca bella bella